Grazie, io ringrazio a mia volta gli amici del Bandolo e di Arcobaleno. Nella mia vita di lavoro che si è conclusa un anno fa, sono sempre stata molto vicina a queste tematiche e anche molto vicina a molte tematiche di cui si occupa Irene perché appunto ho cercato di impegnarmi per la promozione dei diritti, per dare voce a categorie di cittadini che di voce ne hanno normalmente poca. Io non voglio rubare tempo a nessuno, Irene penso che la conosceremo via via attraverso le domande che i colleghi della redazione che sono Giuseppe Di Maio, Monica Catanzaro e Glenda Delle Noci le porranno. Io dico solo pochissime cose, Irene Fakeris è psicologa, ha fondato una società che si occupa di formazione, ma di una formazione che veramente mi sta molto a cuore, una formazione che riguarda il pensiero, il linguaggio e più in generale appunto una nuova cultura, una nuova cultura aziendale in primo luogo, ma in realtà una nuova cultura aziendale è già un riflesso di una nuova cultura che permea gran parte della nostra società anche se magari la politica si ostina a pensare che non sia così. è autrice di libri che ovviamente parlano di queste tematiche, di diritti, di diciamo politicamente corretto, anche se forse non è una definizione così simpatica a questo punto, di tante sfaccettature del comportamento sociale che appunto negli anni per fortuna si sono evolute. Allora io non so se vuoi dire qualcosa, sediamo direttamente. La prima domanda ti dà l'opportunità di... Volevo giusto salutare. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Allora la parola a Giuseppe Di Maio. Grazie, grazie. Buonasera. Che cosa vuol dire per te essere un'attivista transfeminista intersezionale e nel concreto in che cosa si realizza? Definizioni. Io mi arrabbio di professione, questa potrebbe essere una buona definizione. Mi pagano per arrabbiarmi ma non abbastanza, questa potrebbe essere un'altra definizione. Allora, in realtà il mio lavoro è uno, io sono formatrice e mi occupo di andare nelle scuole, nelle organizzazioni a parlare di parità e discriminazioni. Il mio cuore batte dove di soldi invece non se ne fanno, nel senso che poi io mi considero attivista e l'attivismo non è qualcosa che si fa per un ritorno economico. Infatti non è che faccio attivismo, sono un attivista, mentre invece faccio formazione. Mi considero un attivista perché sono una persona che non riesce a tacere davanti a un'ingiustizia, di solito. Ho iniziato a fare questa cosa che ero molto minorenne, io ho preso il primo pugno in faccia all'età di forse 8-9 anni perché un ragazzino se l'era presa con una mia compagna di classe molto più piccola di me e io mi sono parata davanti dicendo Prenditela con qualcuno della tua stazza, chiaramente una bambina che ha visto troppi film, e lui l'ho fatto, se l'è presa con me, mi ha tirato un pugno e sono finita per terra. E mentre ero per terra mi ricordo di aver pensato, meno male che l'ho preso io. Se l'avesse dato la mia compagna sarebbe stato peggio, lei l'avrebbe incassato peggio perché è più piccola. Lì ho capito che quella sensazione non se ne sarebbe andata tanto facilmente e qui infatti poi è continuata negli anni. Mi considero femminista o meglio ancora trans femminista, questo perché per tantissimi anni si è parlato di femminismo parlando ovviamente di donne, ma forse nel 2023 è il caso di ricordarsi che non tutte le donne sono biologicamente donne, sono donne che sono donne trans. Ci sono persone non binarie a questo mondo e sono persone che vengono discriminate per il loro genere e dunque più che femminista per me è più completo dire trans femminista. Intersezionale perché mi rendo conto che a parte l'essere donna e che quindi comporta delle discriminazioni in una società patriarcale sessista come la nostra e moltissime altre, in realtà sono abbastanza il ritratto del privilegio, nel senso che sono una persona bianca in una società razzista, sono eterosessuale, cisgender, in una società homo, lesbo, bi, transfobica, ho un tetto sopra la testa, ho una casa di proprietà, per tutto ciò che riguarda tutte le altre discriminazioni, io sono il ritratto del privilegio. E arriva un momento in cui le persone dovrebbero chiedersi cosa farsene di questo privilegio, ci sono moltissime persone che ammesso di rendersi conto di avere un privilegio, quando se ne rendono conto fanno, meno male che non mi è toccata una di quelle sfighe, no? Tipo essere donna. Ecco, io credo che ci sia un'alternativa a togliersi il sudore dalla fronte e dire per fortuna non è successo a me, che è chiedersi in che modo questo mio privilegio può essere utile a chi non ce l'ha, che cosa posso fare, come posso rimboccarmi le maniche, come posso stare scomoda, perché chiaramente combattere certe battaglie vuol dire stare scomoda, in un mondo che di base mi avrebbe messo in una posizione anche abbastanza comoda, ma siccome la mia posizione comoda non è un merito, è semplicemente un caso, io devo farmi la domanda, come faccio per migliorare, aiutare in minima parte, perché mi rendo conto di essere poi una fratto otto miliardi, quanti siamo diventati nel frattempo, però se tutte le persone facessero questo ragionamento, forse un pochino alla volta riusciremmo a vivere in un mondo un po' più paritario, quindi nella pratica quello che faccio è farmi delle domande, arrabbiarmi molto e provare ad essere utile. Irene, ho ammirato moltissimo i tuoi mini interventi che si possono vedere su internet, perché in parole molto semplici e dirette tu spieghi questi pensieri rispetto a tanti argomenti, tanti temi, in modo così chiaro che ti ho veramente ammirata, avendo più o meno fatto, diciamo avuto una posizione analoga alla tua per tanti motivi che adesso non sto a raccontarvi, ma veramente ho ammirato la tua chiarezza di idee e di posizione. Questa forse è la deformazione professionale di cui faccio formazione, probabilmente è un mix. Una cronista, le idee più confuse, ma comunque Giuseppe, tocca ancora a te. Certo, ecco in realtà prima parlandomi del tuo essere la paladina in difesa della tua compagnuccia di scuola che è vittima del solito bulletto, hai anticipato forse la seconda domanda che recita, in effetti quando hai sentito il bisogno, la volontà di dedicarti a queste tematiche. Ressa poco lì. Non so se per fortuna o purtroppo, ma ci sono diversi momenti in cui questa cosa è accaduta, quindi ne citerò un altro così rispondo alla domanda. C'è stato un momento in cui io ho dato un nome a questa cosa, nel senso che per moltissimi anni io ho sentito questa emozione, cioè questo senso profondo di ingiustizia quando vedevo alcune cose capitare alle altre persone e quando le vedevo capitare a me. Io non sono riuscita a nominare certi comportamenti fino ai miei anni in università, dove non dico per caso, ma quasi, ho frequentato un corso durante il mio corso di laurea che si chiamava Psicologia delle differenze e delle disuguaglianze all'Università Milano Bicocca, tenuto dalla professoressa Elisabetta Camussi. Io lì ho sentito per la prima volta parlare di femminismo in maniera seria, nel senso che più o meno ogni persona ha sentito il termine, però pensi solo, ah, le donne arrabbiate con i peli sotto le ascelle, tra l'altro sì, non capisco cosa ci sia di male, ora sono la definizione, sono sul palco, ho una donna arrabbiata con i peli sotto le ascelle, però c'è anche dell'altro. E proprio durante quell'anno in università, poi a me è accaduta una cosa, cioè io ho subito una molestia da parte di un assistente universitario, che quando ha capito che non avrei avuto intenzione di fare nulla, mi ha bocciata così dal nulla. E io ho raccontato questa, ho deciso di raccontare questa cosa a qualcuno in università e per puro caso sono andata da questa professoressa senza sapere che sarebbe stata la professoressa che poi avrebbe tenuto un corso, avrebbe detto la parola femminismo, mi avrebbe illuminata. È stata una fortuna incredibile perché sono andata da una persona che mi ha creduta immediatamente, che ha preso provvedimenti. Mi piacerebbe nella vita poter essere l'Elisabetta Camusse di qualcuno, anzi di qualcun. Cioè mi piacerebbe pensare che sono una persona dalla quale si può andare per raccontare qualcosa che è successo avendo la certezza che si sarà creduta e avendo la certezza che non verranno messi in discussione i sentimenti, che non verranno negate le emozioni. A me è accaduta questa cosa per fortuna e mi piacerebbe ridistribuirla. Quindi quello forse è il momento in cui ho razionalizzato che anche nel mio lavoro avrei voluto occuparmi di quello. Monica, a te. Buonasera intanto. Quali sono le strategie per comunicare non soltanto ai giovani ma anche alle generazioni attuali, spesso all'oscuro della natura delle nuove istanze? Transfeministe, è importante l'educazione sessuale e di genere all'interno delle scuole? Allora, è barato, sono due domande in una, però va bene. Allora, sulla prima domanda. Sì, naturalmente è importante parlare anche alle persone che hanno la mia età e che hanno 10, 20, 30, 40 anni, 50 anni di più. Nonostante, chiaramente, se devo scommettere su qualcuno, scommetto sull'ultima generazione. E c'è una ragione. Ora ci arrivo. Però intanto che questa generazione arriverà in posizione di potere, ci aspettano davanti ancora diversi anni dove a tenere il potere, vedo qualcuno che alza gli occhi al cielo, vi capisco, dove a tenere il potere saranno persone che hanno il doppio dei miei anni, che sono persone che spesso non hanno mai sentito parlare di questi temi. Non per colpa loro, nemmeno adesso se ne parla a scuola, quindi figuriamoci 40 anni fa, 50 anni fa. Però noi non possiamo soffrire e stringere i denti nell'attesa che ci sia il ricambio generazionale, perché dobbiamo provare a vivere in maniera più o meno serena anche ora. Questa è la ragione per cui è utile sensibilizzare anche gli adulti, fare formazione anche alle persone adulte, perché al momento sono quelle che hanno il potere, quindi hanno anche il potere di migliorarti o peggiorarti una giornata. E sono felicemente inconsapevoli, la maggior parte di loro è felicemente inconsapevole di avere questo potere. E questo è un problema, perché se tu non sei consapevole dei tuoi strumenti o di quanto ti manchino degli strumenti, non hai nemmeno idea del fatto che potresti fare dei danni e quindi li fai in maniera esponenziale. Dunque sì, è estremamente importante parlarne con chiunque, indipendentemente dall'età. Certo è che se noi cominciassimo da quando le persone sono piccole a raccontare loro certe cose, qui mi collego alla seconda domanda, poi faremo molta meno fatica. Io mi rendo conto che è molto più semplice andare nelle scuole a parlare con persone di 13-14 anni piuttosto che andare in un'organizzazione e parlare con gente che ha il doppio dei miei anni. Ma perché? Perché una persona di 60 anni è 60 anni che sente dire alcune cose e tu arrivi più o meno dal nulla e dici ah no, ma sai che c'è un'alternativa? È difficile anche solo ascoltare una cosa del genere perché significa guardarsi indietro, guardare tutta la tua vita fino a quel momento e dire ma tu mi stai dicendo che in tutto questo tempo io potevo fare un'altra cosa e magari me la potevo anche vivere meglio. Molte persone non se la sentono di affrontare questo pensiero e quindi la risposta è no, non è vero, sono tutte cavolate. Ma è un modo per proteggersi. Dico che è più semplice fare questi discorsi con le persone giovani perché sono molti meno anni che stanno ascoltando certe cose, sono molto meno legate a certi concetti e molto più pronte a lasciarli andare. Se sentono qualcosa che ha più senso lo accolgono senza problemi perché non devono dire oh mio Dio io che ho fatto nella mia vita niente, gattonabia adesso sei qui adesso la cominci la vita non è un problema posto che i danni possono farli comunque cioè anche solo sentire per dieci anni una certa cosa poi te la porti dietro però dieci è sempre meglio che sessanta. Quindi sì prima cominciamo a parlare alle persone di questi temi prima arriveremo ad avere una società migliore di questa non che ci voglia moltissimo però comunque l'obiettivo dovrebbe essere quello di andare a migliorare e prima il mio lavoro sarà inutile io non vedo l'ora di essere inutile a livello lavorativo proprio io non vedo l'ora che il mio lavoro sia inutile perché ormai chiunque sa queste cose siamo tutti d'accordo sul fatto che la parità è un diritto sul fatto che come ti definisci chi decidi di amare chi sono i tuoi genitori da dove arrivi è importante per la tua storia non è quella cacchata del siamo tutti uguali non è quella roba lì siamo tutte persone diverse la nostra diversità merita rispetto io spero di arrivare lì cioè quel momento in cui saremo tutti d'accordo su questa cosa e quindi non ci sarà assolutamente bisogno io potrò andare in pensione anticipata fa ridere perché non ce l'avrò mai la pensione io però vabbè questo è un altro discorso beh sì come come persona che ha il doppio dei tuoi anni devo dire che cioè è stata dura cercare di introdurre nel io parlo del mio ambiente di lavoro 30 anni fa alcuni argomenti come potevano essere appunto l'immigrazione con i diritti delle persone migranti il diritto a non essere definite 30 più anni fa vucumpra insomma quei termini dispregiativi che che conosciamo l'introduzione lenta cioè lenta improvvisa ma lenta nella testa di una parte dei colleghi del concetto di pride una delle tue pillole però insomma dai dai e dai poco alla volta cioè oggi i miei i miei colleghi e le mie colleghe più giovani effettivamente cioè danno per acquisire cioè hanno acquisito perfettamente nel corso della loro della loro vita lavorativa e non alcune alcuni concetti alcune insomma alcune situazioni che assolutamente anche solo vent'anni fa o quindici erano ancora di difficile di gestione diciamo comunque Monica vai avanti allora visto che come tutti forse ben sappiamo sei molto social quale ruolo possono avere i social il social è un grande mezzo comunicativo ma il mondo del web è anche terreno di ignoranza disinformazione manipolazione e pregiudizio sì io sono molto social purtroppo dato che siamo qui anche per parlare di salute mentale forse se io fossi stata un po' meno sui social non avrei vinto una diagnosi disturbo di depressione maggiore probabilmente però vabbè magari vi parliamo dopo per me che utilizzo i social anche in maniera attiva cioè che faccio divulgazione sui social sicuramente questo canale è stato molto utile per arrivare a più persone possibili è molto lo trovo molto poco classista come come media perché a parte che vabbè in realtà in pandemia abbiamo scoperto che non è vero che non tutte le persone hanno un computer in casa però è sicuramente più accessibile un contenuto fruibile gratuitamente online che non andare a comprare un libro ad esempio o seguire un corso ancora più costoso io sono stata molto contenta di aver fatto e di stare ancora facendo insomma divulgazione online perché ho visto come l'aver appreso delle cose online ha impattato poi il mondo offline c'è stato un anno nello specifico in cui continuavano ad arrivarmi tesine di maturità sul femminismo io avrei voluto essere in qualche commissione d'esame perché immagino qualcuno si sarà chiesto cosa è successo quest'anno ci sono impazziti tutti quindi secondo me è molto utile certo è che se non sei solo fruitore passivo ma se già solo se commenti cioè se ti ingaggi in discussioni online ma ancora di più se crei contenuti è cioè è l'anticamera della salute mentale lasciala fuori e lì di dentro però non la porti perché quando cominciano ad arrivarti una mole di messaggi privati di insulti e di tutto e di più si fa veramente fatica si fa veramente fatica a ricordare perché ne valga ancora la pena io mi rendo conto perfettamente che andando avanti con gli anni ho sempre meno risposta alla domanda perché continui fino a qualche anno fa avrei dato una lista di risposte molto lunghe adesso se penso al costo della psichiatra degli antidepressivi della terapia naturalmente con la mia psicologa e tutti i pianti che mi sono fatta non lo so non lo so se adesso mi vengono ancora tanti motivi per continuare sicuramente ce ne sono arrivano anche un sacco di messaggi positivi per fortuna però come spesso accade dieci messaggi positivi hanno un peso e un messaggio negativo pesa cento volte tanto e credo che si parli molto poco di questo che si parli molto poco del del completo burnout che comporta fare attivismo online perché sei un sei un bersaglio che non ha che non ha mai ostacoli davanti cioè sei sempre lì perché ti vuole insultare basta andare sul profilo e scrivere qualcosa no? non è che devono venire sotto casa mia che magari qualcuno dice beh non c'ho voglia è così semplice basta che mi cerchi su instagram quindi sì sicuramente sicuramente è un mezzo molto utile credo che ci sia bisogno di un forte ricambio generazionale spesso molte persone mi scrivono soprattutto in quest'ultimo anno dicendo ah ma ho visto che pubblichi meno che fai meno contenuti come mai che brutto era bello leggerti era bello fare e non ci si rende conto che questa cosa però ti consuma io sono molto contenta che ad esempio ci siano persone che hanno 10 15 anni meno di me e che stiano cominciando a fare attivismo anche online perché significa che io lentamente posso grazie ciao e andare che è il mio obiettivo ma per preservare la mia salute mentale quindi offline è tutto un altro paio di maniche cioè nella vita non voglio dire vita vera online è vita vera ma nella vita faccia a faccia è tutto molto diverso è difficile che una persona ti insulti guardandoti negli occhi e se lo fa qualcuno di fianco dice qualcosa online non c'è nessuna protezione per la salute mentale delle persone e questo è problematico sicuramente grazie è una risposta molto molto sincera e sì sulla quale vale la pena di meditare meditare anche perché ci sono parecchi giovani oggi che stanno almeno lo sento dire da mia figlia che ha 25 anni e lei stessa ha lasciato ha lasciato Instagram e altri come lei insomma perché forse alla fine se capisci che non ne vale la pena è meglio è meglio così e certamente Irene ha un ruolo un ruolo appunto di attivista e quindi immagino che il combattimento interiore sia sia grande Glenda ci porta in un altro in un altro ambito insomma molto permeante ecco prego la nostra società è permeata di piccole prassi che vengono consolidate per inerzia a causa dell'abitudine e dei valori l'uomo non può vivere la propria emotività una donna che ha più relazioni è mal giudicata laddove l'uomo è invece gratificato socialmente l'uomo si sente in dovere di pagare spesso per la donna qual è il confine tra un comportamento gentile e una disparità di genere o sociale a quali elementi quotidiani e relazionali dobbiamo prestare più attenzione per non cadere nella trappola della discriminazione allora secondo me un modo per capire se stai facendo qualcosa perché sei gentile o perché sei sessista magari inconsapevolmente è chiedersi lo farei per una persona appartenente all'altro genere scusate questa ottica binaria per cui l'altro genere per capirci cioè un uomo che apre la portiera a una donna o che le tiene aperta la porta io non non è che urlo maledetto sessista se uno mi tiene aperta la porta evidentemente però mi faccio la domanda se fossi stata un uomo avrebbe fatto la stessa cosa se sì perfetto è un atto di gentilezza sono molto contenta di incontrare persone gentili se no cominciò a sentirmi trattata come la povera dami donzella in difficoltà che non mi piace particolarmente vale la stessa cosa ad esempio a me capita di se esco con un mio amico ma anche se esco con un interesse romantico e solitamente genere maschile mi capita di pagare cioè di decidere di pagare tra l'altro questo è un ottimo un ottimo modo per capire la persona che abbiamo di fronte questo lo dico a tutte le le donne eterosessuali bisessuali pansessuali che escono con un uomo pagate al primo appuntamento quindi sapete se dovete smettere di perdere il vostro tempo oppure no la reazione dell'uomo di fronte dice tantissimo tantissimo io inizialmente offrivo magari alle mie amiche e poi ho visto che in realtà a me piace il gesto di offrire offrire una cena e quindi perché se c'è davanti un uomo non lo devo fare ma questo è anche figlio di anni e anni di riflessioni sulla differenza tra la gentilezza e la cavalleria io credo che ci si debba prendere del tempo per ascoltare le persone e le emozioni che stanno provando senza giudicarle cioè se una donna dice a un uomo che guarda mi dà fastidio quando fai questa cosa io sono stata anche in situazioni dove volevo pagare e mi è stato fisicamente impedito cosa che io trovo veramente violenta ma fisicamente io ho manifestato questo mio dissenso verbalmente e in sostanza mi hanno detto che era esagerata mi facevo le paturnie io ecco io non credo che noi andremo molto avanti continuando a dirci l'unico gli altri che siamo esagerati ci facciamo le paturnie io credo che un modo per andare avanti sia quello di sospendere il giudizio e ascoltare realmente quello che sta dicendo l'altra persona quindi a me ha dato fastidio questa cosa anziché dire subito eh vabbè ma perché tu sei un po' particolare magari chiedersi come mai chiedere all'altra persona cosa che ti ha dato fastidio sempre che il nostro obiettivo sia evitare di dare fastidio alla gente cioè per me è un obiettivo di vita evitare di rompere le palle alla gente di dare fastidio alle persone se questo è un obiettivo se qualcuno ci dice questa cosa mi ha dato fastidio mi sembra strano che la prima domanda non sia come mai c'è qualcosa che posso fare in maniera diversa così magari la prossima volta evito questo potrebbe essere un'idea prego essere fuori dagli schemi può condurre alla marginalità e all'isolamento questo vale anche ovviamente per chi ha problematiche di salute mentale cosa ne pensi? allora io ho avuto l'incredibile fortuna di nascere in una famiglia dove di salute mentale si è sempre parlato dove è sempre stata trattata in maniera seria so di essere tristemente un'anomalia spessissimo cominciamo già da piccolo a sentirci a sentirci dire che i nostri le nostre sofferenze fisiche si riconoscono hanno dignità hanno valore le nostre sofferenze mentali sono non c'è bisogno se sei arrabbiato non ti arrabbiare se sei triste non essere triste io sono cresciuta in una famiglia dove non posso uscire perché mi sono rotta una gamba aveva la stessa validità del non posso uscire perché ho l'ansia perché ho un attacco d'ansia perché mi viene l'attacchicardia solo a pensare di mettermi il cappotto questa cosa non è mai stata sminuita attenzione aspetta un attimo quando parlo di famiglia parlo di mia madre e mio padre già se saliamo di una generazione non è più così ok il nucleo il piccolo nucleo familiare di noi tre è sempre stato così questo naturalmente mi ha aiutata molto a parlare sempre della mia salute mentale perché arrivavo da un contesto dove non era mai stata sminuita io ho cominciato a sentire sminuita la mia salute mentale o la mia assenza di salute mentale in alcuni momenti quando sono uscita nel mondo e allora ho cominciato a sentire le frasi ma va ma stai esagerando ma vedrai è solo un momento e naturalmente ho dovuto fare i conti con questa cosa perché non sono non sono mai stata non sono mai stata una bambina e poi una ragazza e poi una donna particolarmente serena mettiamola così quindi ho ciclicamente dovuto fare i conti anche con le reazioni delle persone perché poi ero abituata a raccontare con me stessi a livello di salute mentale mi sono resa conto che le persone non sono abituate a sentirti parlare di salute mentale e siccome non sanno come affrontarla cercano di rassicurarti perché in realtà stanno cercando di rassicurare sé e ho capito che funziona un po' un po' così però io ogni volta che ho avuto la possibilità ne ho parlato e quando appunto ehm sono andata da una psichiatra che poi mi ha dato una diagnosi io ne ho parlato sui social ho tenuto per diverso tempo proprio una rubrica la cronaca di un attivista depressa scrivevo la mia settimana mi ha aiutato molto ma soprattutto mi sono resa conto che ha aiutato le altre persone io non ho mai ricevuto così tanti messaggi come il venerdì dove postavo le cronache di persone che mi dicevano finalmente io non mi sento sola cioè leggo le tue parole potrei averle scritte io quindi si può dire questa cosa cioè quindi se ne può parlare può smettere di essere un tabù perché tutte le persone hanno 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 una testa quindi hanno una salute mentale o dovrebbero avere una salute mentale è un diritto è un diritto non stare bene è un diritto provare a stare bene avere le possibilità di stare meglio il meglio possibile per me è proprio una responsabilità forse la responsabilità più grande che sento avendo un pubblico avendo delle persone che mi ascoltano è proprio quella non mi piace il termine normalizzare perché vorrei sapere chi ha deciso che una cosa sia normale e cosa no ma vorrei che diventasse banale parlare di salute mentale cioè che è una conversazione che tu puoi fare esattamente come qualunque altra conversazione cioè mi piacerebbe che diventasse un argomento familiare ecco meglio ancora per cui esattamente come è facile sentire dire stasera non esco perché c'è un raffreddore assurdo non riesco neanche a respirare vorrei che fosse altrettanto familiare sentire guarda questa sera non esco perché veramente mi viene da piangere cioè non faccio altro che piangere non so come smettere per arrivare a questo a questo risultato io credo che si debba fare veramente un discorso esattamente come dicevamo prima a partire da quando le persone sono molto piccole anche perché di solito quando le persone sono molto piccole tu parli con loro del fatto che stanno male loro sono estremamente empatiche e che poi quando diventiamo più grandi cominciamo ad avere una serie di sovrastrutture ci dimentichiamo di quell'empatia che invece è propria degli esseri umani e non solo quindi non so se ho risposto alla domanda però sì questo sì 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 anche credo molta paura molti genitori credo abbiano paura proprio di incontrare una patologia e quindi però appunto le patologie sono all'ordine del giorno cioè tante insomma in tanti punti del nostro corpo possono insorgere quindi vabbè invece Monica vuole affrontare un altro tema importante per tutti l'arte può vincolare universivalmente un certo tipo di messaggio di liberazione ed emancipazione e portare all'attenzione del pubblico tematiche sociali legate alla disuguaglianza e alla discriminazione sei d'accordo? sì e credo anche che sia un linguaggio molto più immediato perché l'arte ti permette di di venire investita da un messaggio senza nemmeno rendertene conto cioè se vai a una conferenza a sentir parlare di un certo tema lo sai sei sei pronta come come persona e magari sei anche pronta a ribattere a dire no questa cosa non sono d'accordo no questa cosa non la voglio neanche sentire l'arte è un un canale privilegiato per cui la razionalizzi dopo ma arriva immediatamente alla pancia e su certi temi forse la cosa migliore è anzitutto sentirli e poi razionalizzarli e io credo che l'arte abbia questo questo compito allora Giuseppe conclude l'intervista vera e propria ma poi il pubblico può continuarla quindi dai diritti civili ai diritti sociali e viceversa il lavoro la parità di genere la giustizia sociale quanto sono interconnesse le lotte per i diritti ora e come mai vengono troppo spesso tenute separate lotte sono tutte interconnesse è il concetto di intersezionale potersi permettere di affrontare una battaglia alla volta è un privilegio ancora una volta perché io posso dire vabbè oggi mi occupo di razzismo magari domani mi occupo di omofobia sì tu dillo una persona nera è queer se oggi si occupa di di razzismo e domani si occupa di omofobia non lo può fare perché queste discriminazioni le sente tutti i giorni sempre interconnesse e sarebbe il caso che tutte noi come persone cominciassimo a pensare alle discriminazioni in questo modo cioè come a discriminazioni che sono connesse tra loro perché invece le teniamo separate a chi giova a chi ha il potere non ha nessuna intenzione che cambi la situazione è evidente finché hai il gruppetto che si occupa di omofobia e poi il gruppetto che si occupa di razzismo e poi il gruppetto che si occupa di sestismo sono facili da controllare sono tre gruppetti poi se si mettono insieme voglio vederti cominciare a controllare quelli e appena tu parli di discriminazioni e pensi alle connessioni ti rendi conto che non c'è nemmeno una persona che possa dirsi completamente fuori da questo meccanismo non solo perché persino l'uomo bianco etero cis ad esempio come si diceva prima in una domanda non può manifestare la sua emotività spesso e volentieri a meno che non sia rabbia quella va benissimo perché ti rende un uomo vero ma ad esempio se sei un uomo e vuoi piangere è quello un po' più difficile è proprio un po' più difficile ma anche perché se non sei dalla parte della persona discriminata sei dalla parte di quella che discrimina cioè questo purtroppo è una brutta verità da sentirsi dire ma è così non sto dicendo che le persone discriminano intenzionalmente ma quando tu non subisci una discriminazione spesso non hai gli strumenti per vederla e quindi non ti rendi conto di quando la metti in atto dando per sperando che le persone di base siano buone sia che ti rendi conto che stai subendo una discriminazione sia che ti rendi conto che senza volerlo l'hai portata avanti da quel momento in poi tu sei ingaggiato in quella discussione perché riguarda veramente chiunque il problema è che se ce ne rendiamo veramente conto e decidiamo di fare qualcosa e poi è difficile fermare questa onda mentre finché le teniamo compartimenti stagni è un po' più facile controllarle infatti non parlano di questi temi nelle scuole ovviamente Giuseppe tu intendevi anche cioè volevi allargare ancora di più il campo non so alla povertà insomma ai bisogni o no ma io personalmente al di fuori del questionario eccetera vedo tutto questo nel termine magari abusato magari bullismo io ho sempre visto l'aggressivo il carnefice l'ho inquadrato con questo termine qui e con questo termine qui io ravvedo diciamo questa sorta di atteggiamento che tu hai un attimo fa raccontato ecco poi finita qui diciamo no perché spesso poi si può andare ancora cioè si va oltre la persona discriminata e discriminata su tanti fronti compreso non so le persone appunto che vivono su di sé la discriminazione diciamo razziale o di così di orientamento sessuale poi spesso magari aggiungono anche una posizione nella società marginale anche per altre per altre ragioni ancora quindi diciamo è proprio un come dire un atteggiamento che deve considerare dovrebbe considerare la persona a 360 gradi e vederla in tutto il suo in tutta la sua realtà ecco a questo punto se qualcuno ha piacere prego se volete ecco qual è la posizione attuale del movimento femminista a riguardo della globalizzazione dell'eliminazione dell'arma nucleare del disarmo ne ho la più pallida idea quando mi faranno segretaria generale del movimento femminista sarò sicuramente predisposta ne ho la più pallida idea per il semplice fatto che è già un azzardo parlare di femminismo come se ce ne fosse uno solo ci sono diversi femminismi che alcune volte dialogano e altre volte purtroppo no quindi io non so non so minimamente rispondere a questa domanda posta in questo modo e forse se lo sapessi non sarei comunque titolata a darla io questa risposta non lo so laggiù tu facevi da segnale ciao intanto grazie prima parlavi del fatto che i social sono vita reale no però esiste questa discrepanza tra insultare qualcuno sui social e farlo invece nella vita diciamo in presenza secondo te questo fattore di aggressività è dovuto esclusivamente a una questione generazionale c'è una c'è un fattore di come dire di etichetta si può fare qualcosa c'è un modo cioè tu che soluzioni vedi a questo perché secondo me ci sono mille modi di approcciarsi e forse anche di educare a come ci si deve comportare allora io non credo che sia una questione generazionale non credo nemmeno che sia una questione di strumento in sé cioè una cosa che non faresti dal vivo però la fai sui social io credo che lo strumento online semplicemente sveli il carattere di una persona e le scelte che fa io non solo non insulto online ma non insulto neanche dal vivo ma non per una questione di etichetta io non insulto perché secondo me non ha alcun senso perché secondo me non è così che si porta avanti una discussione e perché sono convinta che il mio punto di vista non sia universale quindi io non ho la verità in tasca quindi con che diritto vengo a dirti qualcosa al massimo ti parlo di me ti parlo di come mi sono sentita quando tu hai detto una cosa quando tu hai fatto una cosa sperando che questa cosa non sia perle ai porci sperando che la persona d'altra parte capisca ma in realtà io non farei mai certe cose non le penserei neanche nemmeno offline io credo che i social semplicemente svelino perché ci sono in realtà poi ci sono anche le persone che ti insultano dal vivo in realtà o magari ci sono le persone che non lo fanno dal vivo perché non hanno voglia di gestirsi le conseguenze ma che se solo se ci fosse la giornata dove oggi non valgono le regole lo farebbero immediatamente io credo che il problema stia lì e che quindi non sia tanto utile un corso su come si usano i social cosa è il caso di fare o non fare ma più che altro un corso di come si sta al mondo senza fare schifo cioè questo potrebbe essere un corso volendo la questione è chi lo fa questo corso chissà come si sta al mondo senza fare schifo è un enorme problema naturalmente infatti non ho la soluzione però ecco forse trovo un po' miope pensare che il problema sia solo il mezzo perché secondo me il mezzo non crea il mezzo semplicemente svela qualcosa che però ha già la persona dentro di sé o non ha ciao Irene scusa l'emozione io vorrei parlare un attimo di rabbia che è un po' quello che hai citato anche prima dicendo che è un sentimento accettato nell'ambito maschile mentre invece nell'ambito femminile spesso viene una donna che prova rabbia diventa isterica esagerata io provo rabbia e tu hai detto che sei arrabbiata di professione però a volte non vorrei provare rabbia ma non perché appunto socialmente non è accettato ma per star meglio anche un po' io però è proprio qualcosa che sento da dentro ci sono determinate situazioni che patisco anche dal punto di vista familiare nel quale mi sento estremamente fortunata in quanto donna omosessuale però comunque vivo con due persone che hanno 60 anni che per quanto possono avere una mentalità aperta hanno quelle pillole che mi fanno arrabbiare e volevo chiederti c'è un modo per non arrabbiarsi ogni tanto cioè più che altro a volte mi sento quasi in dovere sempre di dare la lezione di dare la spiegazione ma a volte c'è un modo per mollare la presa e dire questa volta non è compito mio non ho voglia io credo che che ogni persona abbia il proprio termometro per decidere quando non posso fare a meno di dire qualcosa perché altrimenti se non dico niente adesso poi torno a casa e non riesco a guardarmi allo specchio e quando possiamo sentire che vabbè dai a sto giro la mollo questa non è la mia battaglia oggi io per moltissimo tempo ho avuto questo cursore qua fisso sempre 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 ok dalla questione definitiva alla piccolezza io ero sempre che no devi dire qualcosa devi dire qualcosa a parte che quando ho ho imparato delle volte a non dire ho scoperto che dice qualcun altro di questa cosa mi era serenata tantissimo perché quindi non sono indispensabile e ho scoperto che il mio obiettivo finale nella vita è proprio non essere indispensabile in nessun contesto io nello specifico ho imparato da poco a fare questa cosa perché ad aprile ho iniziato a scalare gli psicofarmaci e a settembre ho smesso di prenderli in accordo con la psichiatra e la terapeuta naturalmente mentre io prendevo gli psicofarmaci il mio dosaggio era calibrato apposta affinché io fossi sempre un po' ovattata per cui quando mi arrabbiavo non era una rabbia da non dormire di notte però anche quando ero felice era sempre sì carino però non era mai che bello quello che mi aveva fatto stare male che mi ha portata a chiedere aiuto è stato il fatto che la mia rabbia fosse talmente tanta che io non riuscissi più a fare le altre cose cioè io non facevo le cose di lavoro perché mi arrabbiavo per le robe dell'attivismo questo questa è una società capitalista soprattutto è un problema soprattutto quando a fine del mese però devi pagare le bollette adesso io ho imparato a mollare il colpo perché penso io non ho più gli psicofarmaci io in questo momento sono scoperta da questo punto di vista e quindi non avendo quell'aiuto al momento sono io che devo a un certo punto devo modularmi un attimo e nel caso devo tirarmi indietro perché letteralmente ne va della mia salute mentale siccome sono arrivata al punto in cui ho dovuto fare un percorso ho dovuto prendere dei medicinali che potrebbe tra l'altro ritornare questa cosa non è che tolto una volta è tolti per sempre ovviamente né è obbligatorio togliergli se una persona vive con gli psicofarmaci per tutta la vita questo la fa stare bene ottimo smettiamo anche di demonizzare gli psicofarmaci però essendo io al momento scoperta da questo punto di vista è tutta su di me quella responsabilità e siccome non ci voglio tornare a stare male come stavo per forza di cose chiamo l'istinto di sopravvivenza non lo so però ci sono delle volte in cui proprio mi rendo conto che sto per partire adesso per partire c'è qualcosa dentro il mio fisico che fa boom lo fa proprio cadere per terra tipo non ti riprendi da questa cosa se ti ingaggi in questa cosa adesso poi tu non dormi per due giorni e noi non possiamo permetterci di non dormire per due giorni io sono dovuta arrivare a quel punto lì per imparare a fare questa cosa mi sarebbe piaciuto impararlo senza starci male prima più che altro e questo indipendentemente da farmaci sì farmaci no mi sarebbe piaciuto impararlo senza starci molto male prima però a un certo punto è una buona e sana dose di egoismo se non è una questione definitiva per te che davvero cioè è il principio per cui non puoi non puoi non dire questa cosa mollala mollala intanto arriva qualcun altro a dirla una persona più fresca che magari non arriva da una settimana terrificante che ha le energie per accollarsela a questa me la collo io è la ragione per cui l'attivismo non può non essere un'azione collettiva perché almeno so che dove non arrivo io arriva un'altra persona che io posso mollare il colpo oggi tanto ci pensa lei domani lei non ce la fa vado io cioè ci prendiamo cura delle persone facendo attivismo però tu fai parte delle persone quindi per prenderti cura di te se non è una questione se non ti fa veramente male non dire niente a quel punto è prenderti cura di te e parlare considera anche l'opzione di mollarla serena proprio non credo serva l'approvazione da fuori ma se per caso ti serve vai mollala te lo dico io mollala sinceramente mollala grazie quando molli tu ci arrivo io io praticamente faccio parte di segnali però da dire delle cose secondo te è più importante per una persona dare un aiuto alimentare appoggiarlo psicologicamente essere a lavorare essere autonomo oppure riempirlo di psicofarmaci se per riempirlo di psicofarmaci intendiamo tenere calma una persona di modo che non dia fastidio no naturalmente ma non non credo che gli psicofarmaci debbano essere cioè o o una persona può puoi aiutare una persona aiutandola a cercare un lavoro ad avere una stabilità e dandole degli psicofarmaci se ne ha bisogno e secondo me è importante l'obiettivo che hai in testa la modalità con cui lo fai gli psicofarmaci devono essere un aiuto per una persona per la persona che ne ha bisogno non per chi le sta dando o per le persone che gravitano attorno perché mi rendo conto che invece anche moltissime volte vengono dati psicofarmaci perché così ci leviamo un problema ecco no quello non è il rispetto dell'essere umano naturalmente ma in sé lo psicofarmaco può essere estremamente utile ciao e grazie intanto volevo chiederti perché hai iniziato o perché lo fai a usare i trigger warning sui social mi spiego un attimo perché il trigger warning è un segnale di fare attenzione a questo contenuto perché parla di una certa cosa e perché cioè ci può essere un discorso di invogliare magari ancora di più l'utente o la persona dall'altra parte per curiosità a guardare quella cosa lì ma mi rendo anche conto che mi rendo anche conto che se non ci fosse quel segnale arriverebbe direttamente addosso quel contenuto a una persona che magari in quel momento è in difficoltà su una certa cosa e posto che comunque tu parli a una community che magari cioè che sa di poter contare sul fatto che tu lo stai facendo per il bene di un'altra persona e che quindi deve fidarsi del fatto che c'è quel trigger warning e non deve guardare è meglio non guardare magari se in una certa situazione però spesso questi segnali poi portano nell'abitudine anche a guardare perché il segnale crea magari l'interesse e la curiosità e quindi proprio io non ho una risposta e volevo chiederti la tua personale opinione quando parli di curiosità intendi curiosità sempre da parte di quelle persone per cui è stato messo il trigger warning anche cioè in generale sia in generale sia le persone che magari in quel momento hanno una certa difficoltà se magari non possono essere portate ancora di più a dato che comunque magari sono in una situazione di fragilità a interessarsi cioè a guardare quella cosa allora posto che il mio punto di vista chiaramente non fa statistica però se ci sono dei contenuti che per me sono possono essere pericolosi io non è che metto il trigger warning e poi li posto io non li posto nel senso che secondo me c'è un livello che è assolutamente personale naturalmente è arbitrario io non io non metto il video di George Floyd che viene ucciso dall'agente di polizia e poi metto trigger warning e razzismo io non metto quel video perché secondo me quella roba è pesante e secondo me come dire ce lo possiamo dire è successa questa cosa poi se non lo vedi da me il video tanto lo vedrai da altre mille persone perché è un video che gira ok quindi non è necessario che arrivi che salga anch'io sul carrozzone della pornografia del dolore in sostanza quindi per me se il livello supera la barra che di nuovo metto io arbitrariamente rispetto alla mia sensibilità io non posto certi contenuti quindi questo problema me lo pongo ma da un certo livello in giù perché dopo una certa soglia io proprio non pubblico certe cose io metto i trigger warning perché secondo me sono una forma di rispetto a me è capitato tra l'altro di recente ho recuperato house of the dragon spin off game of thrones anzi prequel avrei voluto che ci fosse un enorme trigger warning su incesto ad esempio spoiler però game of thrones incesto non è spoiler è trama quindi va bene avrei voluto perché per le dinamiche e le persone coinvolte io sono stata malino perché naturalmente ha recuperato qualcosa del mio passato avrei gradito un trigger warning perché magari avrei deciso di non vederlo ok non sono pronta non sono pronta in questo momento lascio perdere o magari l'avrei visto lo stesso ma un po' più preparata con un attimo di corazza in più per questa ragione io metto i trigger warning spessissimo le persone mi ringraziano tra l'altro io le metto anche nelle stories prima di dire alcune cose dico ah comunque trigger warning e le persone mi ringraziano poi mi scrivono in privato grazie perché non sarei stata adesso nella condizione di magari vedere questa serie tv sapendo che accade questa cosa grazie che me l'hai detto che mi hai risparmiato venti minuti di disagio c'è stata una una discussione che ho avuto però con una persona che diceva non vorrei che il trigger warning fosse un modo per allontanare da un tema tanto da non essere più in grado di discuterne per cui io ho delle cose che mi fanno stare male vedo che c'è un trigger warning guarda che qui ci sono delle cose che potrebbero farti stare male mi ci allontano e non ci rifletto mai sopra non mi ci avvicino mai non provo a gestire quello che in molti casi è un vero e proprio trauma io però non credo che il trigger warning faccia questo effetto cioè spero che non faccia questo effetto però ancora non mi è non mi è capitato perché trigger warning non è non guardare questa cosa è guarda che qui dentro c'è questo vedi tu per me è proprio un un segnale di rispetto verso l'autodeterminazione della persona che ho di fronte che può decidere se se sì se no se no adesso ma magari sì più avanti sicuramente ci sono anche dei contro però per adesso non mi viene in mente una maniera più utile per provare a proteggere chi potrebbe aver bisogno di quella protezione in quel momento perfetto grazie mille El c'era una domanda no grazie grazie vabbè io avrei due domande ma ne faccio una poi lascio gli altri poi si avanza faccio anche l'altra la prima è se ti è mai capitato magari soprattutto all'inizio quando come dicevi facevi ogni venerdì scrivevi diciamo come era stata la settimana se hai mai avuto paura magari del del giudizio più che altro delle persone vicine o comunque conoscenti più che proprio degli sconosciuti e se sì cioè come come hai avuto a che fare con questa cosa allora non ho avuto paura del giudizio ho avuto paura di poter fare male un conto è quando leggi certe cose certi sai che una persona che conosci dai social ha avuto certi pensieri è stata in un certo modo un conto è se scopri che una tua carissima amica stai in un certo modo un conto è se scopri che tua figlia stai in un certo modo io ho avuto paura di poter fare del male in questo senso cioè di poter fare rimanere male le persone che erano vicine a me che potessero sentirsi tristi per me però per me in quel momento era più importante essere autentica e magari provare anche a togliermi un po' quest'idea che la che sia una mia responsabilità cercare di far star bene le altre persone soprattutto le persone che ho attorno perché se io sono in un periodo veramente buio della mia vita boh se lo scopri perché leggi una mia storia su Instagram chiediti che cazzo di domande fai quando ci vediamo perché io te lo direi anche dal vivo quindi a un certo punto ho detto senti un po' si faranno due domande si chiederanno come stanno gestendo la relazione con me se scoprono che sto male da un post su Instagram quindi poi me la sono vissuta un po' più serenamente grazie c'è ancora una ciao ti volevo fare una domanda che in realtà non è mia però ho sentito questa domanda l'ho trovata molto interessante non so se segui Cattelan in generale io seguo i suoi programmi mi è capitato di trovarmi attraverso appunto una domanda che ha fatto l'intervistato a Cattelan stesso che era appunto una persona un ex calciatore di colore che gli ha fatto questa domanda quando hai capito di essere bianco ecco io volevo capire per me è interessante saperlo cioè in generale di tutti tu quando hai capito di essere bianca io ho capito di essere bianca la prima domanda è io ho capito di essere bianca no nel senso a parte la battuta mi chiedo se effettivamente si è arrivato al livello di consapevolezza rispetto a tutto ciò che vuol dire la responsabilità che comporta quanto puoi fare del male senza accortertene però io ho sempre avuto in classe persone nere persone ispaniche dalle elementari e e ho visto una diversità di trattamento ma anche non solo degli insegnanti ma anche del gruppo dei pari che c'erano quelli che ti prendevano in giro ecco io non venivo presa in giro e quindi lì ho capito che effettivamente io ero bianca ma non ho capito che cosa volesse dire fino ai vent'anni ok cioè mi sono resa conto del fatto che il mio colore di pelle fosse diverso da quello di alcune persone che lo vedessi spessissimo in giro perché vivo in Italia ma che cosa volesse dire essere bianchi sì cioè non prima di vent'anni ma fai anche venticinque magari ecco sì grazie se non ci sono altre domande lui ha detto ne faccio una di due poi se c'è tempo c'era la seconda domanda se c'è tempo sì ok no allora è una domanda che io mi faccio mi capita di farmi spesso e ogni volta che me la faccio mi do una risposta diversa quindi volevo sapere tu magari cosa ne pensi poi richiedimela domani vediamo allora di base penso che le persone che fanno attivismo spesso debbano anche avere a che fare col fatto che le altre persone le criticano per il fatto magari di vendersi in qualche modo cioè nel senso che una cosa che viene posta nobile come l'attivismo magari poi viene usata cioè non usata porta automaticamente per via penso della società in cui viviamo anche a un tornaconto magari un tornaconto economico e diciamo che volevo sapere un po' qual è la tua posizione a riguardo nel senso che per me quanto meno magari se per dirla in breve la cosa per cui ti stanno pagando riguarda il tema o comunque in qualche modo sensibilizza il tema può starci invece altre cose come magari non lo so non non so esempi però in cui viene sfruttata solo la tua immagine d'attivista ma non il contenuto in qualche modo allora in quel caso forse ha senso criticare però appunto come ho già detto ogni volta cambia idea quindi volevo sapere un po' la tua opinione allora io parlo da un punto di vista estremamente privilegiato perché io posso scegliere dire no alle collaborazioni posso scegliere dire no alle collaborazioni perché da collaborazioni non dipende la mia possibilità di mangiare però questa mettila lì perché è importante perché invece ci sono delle persone per cui quello è l'unico ingresso quindi anche attenzione andare a dire alle persone che non sei coerente al 100% va bene fammi la spesa tu e io sono coerente quindi mettiamo lì questa cosa se dal mio punto di vista se sei nella condizione di mangiare lo stesso anche se non fai la collaborazione terrificante ma la fai io ho delle opinioni riguardo naturalmente anche piuttosto piccate però non conoscendo poi fino in fondo la storia delle persone non mi metto a fare delle stories dicendo no ok me le tengo per me ce le ho sono una stronza giudicona come tutti ok ma me le tengo per me io ho deciso come gestire le mie collaborazioni io non faccio collaborazioni dove non sono credibile cioè per quanto adorerei ma proprio adorerei che mi venisse mandato l'ultimo Dyson perché voglio dire ho un cane quanto vorrei quello che tira su tutto quanto ma poi come lo dico perché un po' il patriarcato ci piace ecco c'è cosa faccio non sarei credibile quindi una collaborazione del genere non potrei accettarla anche se magari il Dyson poi me lo compro perché mi serve però come dire io ci tengo la mia reputazione la mia faccia e vorrei che le persone associassero la mia faccia a alcuni temi quindi io faccio collaborazioni soltanto se vedo un link un collegamento tra i temi di cui mi occupo e questa cosa qui infatti finisco solo a parlare di mutande mestruali alla fine dove mi ci ritrovo al 100% mi sento molto autentica nel parlarne detto questo sempre perché comunque ho il privilegio di poter dire di no sono molte di più le cose a cui io dico di no anche se riguardano temi a me molto vicini due esempi uno di questa settimana uno della settimana scorsa ok la settimana scorsa mi propongono le ennesime mutande mestruali cioè volevo dire che comunque io come la maggior parte delle persone con utero ho quattro giorni al mese quindi non è piacere se posso avere un cassetto di mutande mestruali però mi propongono l'ennesima collaborazione io vado a vedere e vedo che arrivano fino alla taglia 48 e dico io non posso fare questa collaborazione perché come guardo in faccia le mie amiche con corpo non conforme che non se la possono comprare con la mutanda perché la loro taglia non c'è io questa collaborazione non la faccio era un tema che riguardava l'ecologia e tutto quanto ho capito però è grassofobico per cui le discriminazioni si intrecciano eccoci qua questa settimana mi propongono del tipo degli integratori delle cose tutto assolutamente naturale per la gestione dei crampi mestruali e tutto quanto in sé mi sembra anche carino quindi dico dico ok va bene mi arrivano a casa le scatole sto preparando la collaborazione e dico vabbè vado a vedere l'azienda per poter dire due cose vado sul sito e scopro che oltre a queste cose tutte naturali vendono anche la pillola per la prova costume e la pillola per fichissima magrissima in 30 giorni riscrivo all'agenzia dicendo scusate ho visto solo ora errore mio avrei dovuto controllare prima ho controllato solo adesso io non posso minimamente associarmi a una roba del genere ho detto anche se volete faccio il reso delle tre cose non so ve le ridò non le ho anche aperte nel senso non me le voglio tenere mi sento una ladra però io non posso parlare di questa cosa esattamente per la ragione di prima quindi anche se il tema mi riguarda se però sta discriminando qualcun altro nel frattempo non la faccio se ci sono delle collaborazioni che più o meno vanno bene di solito se vanno veramente bene che sono perfette pagano pochissimo perché anche loro sono pagati pochissimo funziona così funziona così poi ci sono delle collaborazioni dove invece ti pagano di più e dove però magari non è plateale quindi non arriverebbe mai l'utente a dire ah però hai visto tu hai sponsorizzato questa cosa però arrivano fino a taglia 48 cioè una cosa che puoi controllare anche tu magari sono un po' più subdole però non le considero pulite al 100% quello che decido di fare io in quei casi è di non tenere il 100% del guadagno io il 50% lo devolvo a associazione che si occupa di altro che era un'ipotesi era anche un'ipotesi del va bene mandami le mutande io il 100% lo do all'associazione belle di faccia che combattono la grassofobia e va bene così però poi avrei fatto pubblicità comunque con la roba lì non ero d'accordo ogni volta è diverso però l'obiettivo è sempre guardarsi allo specchio e non farsi schifo ci sto provando ecco ok grazie mille grazie direi che è stato è stato un ricco pomeriggio e ringraziamo Irene soprattutto per la sua sincerità per la sua come dire sì proprio umanità sincera grazie Irene grazie a voi per avermi invitata grazie a voi grazie a voi grazie a voi